Ma per l'estensione dei diritti civili, per la lotta della comunità LGBTQ, io credo che si debba fare ancora di più. Poi certo i calzini arcobaleno, come aveva indossato Sara, sono un bel simbolo, un bel gesto, è giusto fare cose di questo tipo per dare dei segnali culturali chiari. Ma noi dobbiamo soprattutto fare un programma di azioni contro le discriminazioni. Io ho, assieme ad altri, ideato le case arcobaleno nella città di Milano che accolgono chi viene buttato fuori dalla propria famiglia d'origine in ragione del proprio orientamento sessuale. Ecco, quello deve farlo la Regione, promuovere queste occasioni, queste opportunità per aiutare chi è vittima di discriminazione e dare un buon messaggio positivo, di positivo incontro tra storie diverse e le differenze, insomma, non sono qualcosa di cui aver paura.